In due mesi interventi su piante, strade, loggi comunali e servizi. Un'imponente azione di manutenzione, sistemazione, riqualificazione e sicurezza del territorio ebolitano. Un intervento complesso messo in campo attraverso la programmazione dell'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Cariello con l'assessorato alla manutenzione, retto da Ennio Ginetti, ed il supporto dell'ufficio tecnico coordinato dall'ingegnere Rosario Lacorte. Tra gli interventi fatti la portatura degli alberi in piazza della Repubblica, Fiumberto Nobile e Sant'Andrea, la sistemazione di alcuni igienici in alloggi pubblici, pulizia canali, la sistemazione di strade e caritoie, oltre che la messa in sicurezza di strade interpoderali, l'asfalto in Via Italia nel pezzale della stazione ferroviaria, evitando gli allagamenti, infatti l'acqua scorrerà nei canali. Lungo la fascia costiera è in atto la sostituzione di centinaia di corpi di illuminazione.